Mi piace giocare a calcio con i miei amici a ricreazione. Abbiamo praticato la nostra abilità di dribbling di basket. Palla canestro. La partita di baseball è al parco questo fine settimana. Nuoto. Nuotare è la mia attività estiva preferita. Paubo. Corsa. Abbiamo avuto una corsa durante la lezione di ginnastica. Tennis. La mia famiglia gioca a tennis al campo locale. Abbiamo messo su una rete da volleyball sulla spiaggia. Ciclismo. Ciclismo. È brava in ginnastica e può fare capriole. Ciclismo. Hockey L'hockey è uno sport popolare nel nostro quartiere. Tiaoue Salto Il salto in lungo richiede molta pratica. Tiaosui Tuffo Tiaosui nel rinforzamento è così che il rinforzamento è un po' più difficile. Tuffarsi in piscina è così rinfrescante. Liu Bing Pattinaggio Liu Bing è un'unica molto buona dongi. Il pattinaggio su ghiaccio è un'ottima attività invernale. Hockey Ci Ci Siamo andati a sciare in montagna lo scorso inverno. Golf Mio padre mi ha insegnato a giocare a golf Tiro con l'arco Il tiro con l'arco richiede precisione e concentrazione. La la due Chair leading Questa anno si è unita alla squadra di chair leading. Fai Gio Lotta I match di lotta possono essere intensi. Bowling Il bowling è uno sport indoor divertente per le famiglie. Pan Le pareti di arrampicata sono impegnative. Cuen 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 Il pugilato richiede forza e agilità. Cuen 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 Badminton Cuen Abbiamo allestito una rete da badminton nel cortile. Ping Pong Ping Pong Il ping pong è conosciuto anche come table tennis. Dallan Rugby Dallan Cuen Cuen Dallan 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 Dallan